Sono Enrico Musso, titolare dell'insegnamento di economia delle crociere e della nautica, che è un corso degli studenti del Dipartimento di Economia all'interno dei corsi di laurea di economia e management marittima portuale. La visita che gli studenti del corso fanno oggi alla nave Costa-Diadema, che è ormeggiata a Savona in procinto di partire per una crociera, si inquadra nell'ambito di una più vasta collaborazione fra il Dipartimento di Economia e Costa-Crociere e permette agli studenti di avere un riscontro pratico immediato di quello che hanno imparato in aula attraverso una serie di lezioni accademiche, attraverso una serie di testimonianze, di ospiti significativi del mondo delle crociere. Sono Mirko Vassallo e in nome di Costa-Crociere siamo davvero felici di aver contribuito anche quest'anno ad avvicinare il mondo accademico al mondo delle crociere, rafforzando sempre di più il rapporto con l'Università di Genova, il Dipartimento di Economia ed il Celi e contiamo di contribuire sempre di più a far sì che l'attività didattica e il mondo imprenditoriale siano sempre più vicini e connessi in modo che gli studenti abbiano l'opportunità di iniziare a capire le logiche di business e le sfide che li attenderanno nel loro futuro professionale e personale. Grazie a tutti!